Vi do il benvenuto a questo quarto appuntamento dei seminari di Aria. Oggi abbiamo con noi due colleghe psicologo e psicoterapeute, Rita Verzari e Milena Ciaudone, che ci parleranno del transgenerazionale nelle dinamiche familiari. Questo è un tema molto ampio, che sicuramente avrebbe bisogno di molto più tempo per essere in qualche modo dibattuto. Però questo è un primo appuntamento, non escludiamo che ci ne siano poi degli altri per approfondire un po' di più. Vi invito a fare domande, a intervenire, perché questi momenti vogliono proprio essere un po' un dialogo. Buon ascolto. Basta. Magari possiamo dire due parole? Sì, io che Milena diamo un piccolo contributo ad Aria. Noi facciamo parte di un'altra associazione che si chiama Aria G, che come Aria insomma lavora con adolescenti e giovani adulti. Lavoriamo con ragazzi dai 16 ai 24 anni che abbiano un blocco, come dire, nel loro percorso evolutivo. Io e lei in particolare ci occupiamo delle famiglie nell'ambito di Aria G. Io darei la parola a Milena per iniziare. Allora, buongiorno a tutti. Intanto mi sembra doveroso in qualche modo presentarci un minimo, perché siamo in pochi, ma quel poco che fa gruppo e che quindi in qualche modo permette di conoscerci e di avere anche la libertà di poter fare domande, e di poter intervenire, no? Seminario forse è proprio la parola giusta, perché in qualche modo ci connette con una dimensione di approfondimento, di studio, no? Di riflessione insieme. Io mi chiamo Filomena Sciaudone, Milena come si diceva prima, che è il mio un po' secondo nome, anche se c'è una mia carissima amica che mi conosce come Elena, eh? Quando uno ha tanti nomi poi alla fine fa il sodo, insomma, ecco. Qual è il suono che più fa di te in qualche modo? No, no, ok. Allora, lavoro con Rita Verzari ad Aria e Aria G. Aria G come genitori è proprio una declinazione specifica che è stata creata nel tempo. È stata molto interessante questa dimensione di Aria G giovani, Aria G genitori. Sembra una casualità, se lo fosse sarebbe una bellissima casualità, perché sono proprio delle contrapposizioni, sono proprio delle possibilità, no? Di mettersi al confronto in una dimensione in cui i giovani chiedono ai genitori, i genitori chiedono ai giovani, eccetera, eccetera. E per chi è del mestiere, vedo un assistente sociale, vedo, no? Non una psicologa. Sono i momenti di crisi in cui comunque i servizi vengono in qualche modo interpellato, no? Non stiamo parlando di Aria, stiamo parlando di Aria G. Sarebbe molto importante avere un po' una vostra conoscenza. Non so se dare il microfono o se io lo do, dopodiché vediamo. Ok. Mi chiamo Maria Paola Chirone, sono assistente sociale alla giustizia minorile, in particolare nel servizio sociale per i minorenni, è un servizio che si occupa di ragazzi imputabili, quindi sottoposti a procedimenti penali, e quindi dai 14 ai 25 anni di età, in buona sostanza. Mi chiamo Elena, sono della cooperativa Il Portico, siamo suori, facciamo lavoro domiciliare, per cui educatrici, lavoriamo sui minori dagli 0 ai 14 anni, più o meno. Sono Chiara, sono consorella di Elena, quindi idem. Io sono Luca, un educatore del comune di Torino, che si occupa sia di minori che di disabilità. Io sono un genitore, non ho da presentare nulla. No, nel senso, io sono venuta per capire come funzionava, quindi vorrei... Un genitore di una ragazza, di una mia, che ha quasi speciale. Chi ha quasi speciale? Grazie. Io sono Melanie Bruna, sono una psicologa, collaboro sia con l'equip di Aria che con l'equip di Aria G. E io mi chiamo Carlotta Torello, sono la coordinatrice di alcuni servizi per minori e contratti psichiatrici. Io sono Giulia Tarquini, collega di Carlotta Torello e sono coordinatrice di un servizio residenziale per giovani adulti disabili. Io sono Patrizia Persenda e sono un'amica della dottoressa Lena e quindi sono venuta per ascoltare, per interesse personale. Sono Luigia Cavuoto, sono una psicoterapeuta, collega delle dottoresse, sono venuta perché le stimo molto e a volte può capitare di collaborare con loro, almeno lo spero. Io sono libera professionista e sono CTU e CTP presso il Tribunale di Torino. Grazie. Allora, io mi alzo in piedi perché mi sembra di essere un pochino più dentro e di lavorare. Da seduta mi sembra di rilassarmi, quindi abbiate pazienza. Allora, con la dottoressa Verzai, con Rita, ci siamo incontrate e abbiamo cercato un po' di analizzare, di declinare, se vogliamo, il titolo che ci è dato. Un titolo che è enorme. Quando l'avevamo ipotizzato e in qualche modo provato anche a scrivere, incidenze, valori del transgerazionale sugli aspetti, sulle dinamiche familiari, ci sembrava una roba che addirittura stessimo in qualche modo incanalando in un modo addirittura stretto, quello in un'ora e mezza. Quando abbiamo provato a metterlo giù, a svolgerlo, ci siamo rese conto che è veramente enorme, ma non solo il tipo di contenuto è vastissimo, ma ci sono anche delle integrazioni di tantissimi aspetti e correnti teorici molto differenti. E allora, in questo caso qui, voglio dire, titolo come questo, è un titolo che è molto a che fare con tutta la dimensione familiare, per esempio, ma ha molto a che fare con tutta la dimensione anche psicoanalitica, molto a che fare con la dimensione di cui si occupa in un modo specifico aria, no? Area G, scusate, adesso con aria, a volte mi confondo tra area G e aria, no? Poi sono due cose un po' diverse che collaborano comunque. E allora, rispetto a questa cosa qua, abbiamo con grande, voglio dire, sforzo, cercato di trovare una direzione, una direzione che potesse essere utile a dare dei contenuti, delle indicazioni, no? Dei piccoli approcci, se vogliamo, che poi possono essere approfonditi successivamente. Quindi, questa è una premessa doverosa, proprio per dire, non siamo qui con la lezione teorica su quelli che sono gli aspetti transgenerazionali e nelle dinamiche familiari elencati, eccetera, eccetera, ma che cosa vuol dire parlare di transgenerazionali, che cosa significa parlare di dinamiche familiari e quanto questi aspetti incidono, perché e come, no? Che ci sembra già questo un approccio interessante che ci permette di aprire una finestra, di aprire una finestra. Vi prego, qualsiasi domanda, punto di vista, riflessione che vi viene a mente, no? Mi raccomando, con molta libertà. Abbiamo utilizzato queste slide, che abbiamo tagliato, rimpicciolito e riscritto, proprio per non perdere il binario, no? Per non perdere il filo e per essere abbastanza sicure di poter gestire, in termini di contenuti, quello che era il nostro proposito. Intanto va fatta una premessa fondamentale, no? La premessa fondamentale, prima di parlare di transgenerazionale, è molto importante parlare, no? Della famiglia, perché è proprio l'ambito, la dimensione e il sistema all'interno delle quali, no? Il transgenerazionale ha luogo, si esplica, in un modo privilegiato in assoluto. Noi possiamo parlare di transgenerazionale a livelli diversi, ma quando si parla di quello che porta il transgenerazionale, noi parliamo sempre di un sistema familiare, perché il sistema familiare è un sistema molto complesso in cui si integrano, entrano tutti questi aspetti, questi incroci, a livello di tempo, per esempio. Proviamo a pensare a una dimensione di passato, presente e futuro. Proviamo a pensare, ad esempio, alle regole, ai valori, al senso di identità e di appartenenza che si trasmette all'interno, no? C'è proprio del sistema familiare, ai legami che si creano, che sono legami, così come dice la parola, qualcosa che lega, ma qualcosa che imprigiona anche, qualcosa che sostiene, ma che imprigiona, per esempio, no? Ecco, tutto questo bisogna comunque premettere che all'interno di questo sistema, che è un sistema molto complesso, più della somma delle parti, visto che qua abbiamo educatori, coordinatori, persone non anche molto addentro alla materia, no? Più della somma delle parti, no? Data la complessità. Cioè, non è una cosa più quella, non è solo quell'evento, non è solo la dimensione individuale, ma è l'incrocio di tutti questi aspetti. Questa è la complessità. I piani sono diversi, gli aspetti sono veramente complessi e diversi. Teniamo poi presente, no? Che proprio nell'ambito familiare avviene quello che è il famoso ciclo vitale, per cui all'interno della dimensione del ciclo vitale c'è la crisi. E molte volte noi parliamo di transgela razionale quando nascono i bambini, perché lì abbiamo molto facilmente presenti le due famiglie, che in qualche modo stiamo parlando di una situazione di normalità, di genere, insomma, a livello di generalità. Ma, solitamente, quando parliamo di adolescenti, la dimensione del transgela razionale lo perdiamo. E ci perdiamo una grossa opportunità, perché ci dimentichiamo quanto sia importante per gli adolescenti tutto il processo di identificazione, tutto il processo di crescita, di svincolo, eccetera. Allora, detto questo, io andrei, inizierei. Ok, ecco. Beh, abbiamo scelto, tra l'altro, ci siamo dimenticati di mettere il nome di questa autrice, che si chiama Anseline Schutzenberg. Purtroppo è mancata l'anno scorso, credo. Non molto vecchia, 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 vecchia. Io, veramente, non so quanti anni avessi, più di 90 comunque, più di 90, nei seminari, nei convegni non interveniva neanche più, tanto era, però faceva figura, no? Faceva figura e testimoniava presenza, no? Non sapere, cultura. Di colpo si svegliava e faceva un intervento sempre appropriato. Io rimanevo stupita, mi diceva, come faceva? Ha dormito fino adesso? Non dice niente quella parola che dice? Ha senso, va bene, questi sono, come dire, non i grandi probabilmente. Ecco, questa frase di Anseline Schutzenberg, perché lei proprio è la prima che ha cercato di dare un senso dalla psicanalisi, ha fatto un po' un collegamento tra la psicanalisi freudiana e, se vogliamo, la sistemica di Bowen, cioè cercando proprio di, come dire, di dare un significato a quello che poteva succedere come valore transgenerazionale. E, come le fate, intorno alla culla della bella addormentata nel bosco, i membri del gruppo familiare dicono e predicono cose, ruoli, ingiunzioni, scenari futuri, ma anche tacciono. Mostrano con il loro silenzio l'inquietante presenza di non detti, aree della vita familiare al cui il bambino non deve avvicinarsi, pensare. Ed è per questa via, questo gioco di scambi e relazioni del gruppo familiare, che il bambino viene formato. Gli si assegna un posto nel sistema, vengono orientate le sue scelte, gli interessi, le relazioni, il destino. Ecco, in queste righe c'è già tutto dentro il discorso del transgenerazionale, di questa culla, proprio da immaginarsi, con intorno un sistema che in qualche modo tramanda, trasmette, decide. Poi vedremo, strada facendo, che non sono poi tanto gli eventi raccontabili, quelli che vengono poi trasmessi, quelli che vengono poi tramandati, quanto la modalità, quanto il modo di affrontare. E questo è una cosa molto importante, perché se noi ci fermiamo, e poi lo vediamo attraverso le slide, in questa ora a disposizione, non è tanto l'evento della cosa terribile che è successa, che si racconta e quindi quella cosa lì viene trasmessa, eccetera, eccetera, quanto tutto il complesso di forma, di modo, di attenzione, con cui viene gestita questa cosa qua. Ed è quella modalità lì che viene trasmessa. Ma lo vediamo poi, non è strada facendo, eccetera, va bene. Ok, andiamo avanti. No, andiamo avanti. Ah, ok, ok, scusa, non mi ero accorta. Allora, abbiamo provato un pochino a vedere che cosa significa proprio il transgenerazionale, cosa significa la trasmissione del transgenerazionale. La trasmissione del transgenerazionale è l'esistenza di una trasmissione psichica inconscia tra generazioni. Forse con la parola inconscia la risolviamo spiegando un po' quello che dicevo prima, che non è tanto il fatto in sé, ma il vissuto, quanto una dimensione inconscia non dicibile, non riconoscibile, che non ha parola, che non può essere nominata. Che formano quelle catene di traumi, dolori, ferite dell'animo umano, che si perpetuano nelle famiglie finché il loro significato non viene chiarito. È come una catena. È una catena, una catena che però a un certo punto può anche essere fermata, spezzata. Il perpetuarsi non vuol dire non cambierà mai, non vuol dire sarà sempre così, ma vuol dire che se non viene chiarito, non viene affrontato, non viene sviluppato, elaborato, usiamo il termine che vogliamo per capirci, rimarrà sempre in una situazione di reiterazione. Nella trasmissione intergenerazionale possiamo trovare, per esempio, i torti subiti da un avo che possono diventare nel discendente missioni riparatrici. Non voglio fare gli esempi per ognuno di queste cose, ma solo per capirci, per esempio, aver subito delle ingiustizie, aver subito un qualche cosa, che io neanche conosco, io figlio del nonno, perché andiamo anche fino alla terza generazione almeno, io neanche ne sono a conoscenza, ma quel tipo di sofferenza, quel tipo di dolore che viene in qualche modo incorporato, lo vedremo poi dopo, ben scritto, non è dentro di me, mi può portare a diventare una persona che in qualche modo è molto generoso, è molto dedito, è molto disponibile, quasi una forma di riparazione a un torto subito, oppure posso continuare ad essere quello che subisce, eccetera, 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 eccetera. Cioè va avanti questa storia del reiterato, proprio per usare un termine. I torti, i fallimenti che possono trasformarsi nell'incapacità di creare relazioni, non ho più fiducia, non mi fido, non riesco. Lo stress accumulato di generazione in generazione, che può materializzarsi malattie, eventi traumatici, desiderio di morte, ecco, questa è la parte anche negativa, no? Soprattutto là dove ci sono delle famiglie rigide, dove c'è una modalità comunicativa molto rigida, dove non c'è questo spazio di flessibilità e quindi non si ha la capacità di adeguare, di in qualche modo, no? Non cambiare, ma diventa una reiterazione in automatico, cioè la dimensione creativa proprio non esiste. I segreti di famiglia, di cui poi parlerà anche in un modo specifico Rita, i non detti, che creano fantasmi, sintomi e appunto disturbi psicofisici, no? Cioè nel momento in cui c'è una reiterazione, in una certa rigidità e non flessibilità, no? La, come dire, la reazione diventa proprio quella di esprimere un disturbo, no? Non psicofisico. Nella trasmissione transgenerazionale i vissuti trasmessi, come si diceva prima, sono impensabili, non sono descritti, non sono l'accaduto che c'è stato, avviene attraverso, avviene un attraversamento tra le generazioni, tra gli spazi emotivi, di contenuti, la cui elaborazione e trasformazione non è stata possibile. Cioè non c'è stata la possibilità, no? No? Di fermare, di sbloccare. Questa è una frase molto forte, ma che ci aiuta a capire di che cosa stiamo parlando e perché non è impensabile. Scusami Rita, era la frase di Niccolò, ritorno un attimo indietro. Era proprio, ciò che viene trasmesso non viene introiettato, ma piuttosto incorporato. E questa è una frase molto forte che però ci fa capire quanto l'aver incorporato significa che fa parte di me e che per togliermelo devo in qualche modo fare dei passaggi e fare delle azioni particolari. Ok? Grazie. Lo spazio originario della trasmissione tra i soggetti, lo accennavo all'inizio come premessa, è la famiglia perché è qui che si colloca la trasmissione transgenerazionale con i suoi effetti, sul piano intrapsichico e interpersonale. Intrapsichico è tutto il discorso che facevo prima, no? Non del malessere, delle reazioni, di quelli che sono le basi praticamente, no? Del pensiero, dei modelli, eccetera. È interpersonale invece proprio all'interno delle dinamiche che avvengono tra i membri della famiglia. Questa è un'altra frase, raccamier è un altro noto, non francese e autore francese, dove in questa dimensione di sistema, in questa dimensione di campo, nessuno esente, no? Non ci sono quelli di più, quelli di meno, i fortunati e gli sfortunati. Ognuno ha un suo ruolo, ognuno ha un suo compito che viene proprio dato. Ciascuno ha il proprio tributo da pagare al dolore psichico, al lutto degli amori e delle illusioni, e per ciascuno che non osa farsene carico, ci sarà qualcun altro che dovrà farlo al posto suo, no? Questa è una frase presa che evoca moltissime suggestioni, ma anche tantissime riflessioni, no? Cioè di come sia possibile, in questa trasmissione, soffrire anche al posto di un altro. Prendersi un pezzo, immaginate una dimensione tra fratelli, per esempio, no? O tra figlio e madre, tra, no? Dove in qualche modo si confondono i ruoli, per esempio. Dove comunque c'è un farsi carico, un prendersi, esattamente al contrario, no? Ecco, queste sono condizioni e situazioni che si esplicano probabilmente nelle situazioni di grande difficoltà. La responsabilità, la responsabilità di ognuno di noi, eh? E dobbiamo tenerlo un'altra parte. Oh, era uscita fuori. Era scappata via. Era scappata via, nonna, ok. E sempre, no? Fa parte dello stesso discorso, in quanto gli eventi del passato sono come una forza ricorrente, capaci di potenziarsi passando di generazione in generazione. La vita di ognuno è condizionata da destini e sentimenti che non sono propri e personali. Vi ho preparato, solo per farvi capire, per entrare nel merito, di un piccolo racconto che trovo per quello che mi ricordo. Aspettate, sono un secondo. Vuoi dire qualcosa? No, ne approfitto per dire che questa frase qua che è entrata molto anche in ambito psicanalitico, no? Perché, come dire, chi lavora in ambito della psicologia clinica guarda il paziente, perlomeno questa avveniva tanto tempo fa. Cioè, il fatto di averla consapevolezza che la vita di ognuno è condizionata da destini e sentimenti che non sono propri e personali. Non è che ci toglie la responsabilità, come dire, ci responsabilizzi. Però è molto importante tenerla a mente perché c'è un pezzo di non conosciuto che in qualche modo condiziona la vita attuale nostra. Questa è un po' la consapevolezza del transgenerazionale, insomma, quando parliamo delle dinamiche familiari. È il nocciolo, secondo me, fondamentale. Niente, non abbiamo tempo a fare lo stesso. Nel senso che mi ero preparata ma un racconto mi ero detto guarda com'è interessante questo aspetto. Se mai poi dopo, mentre c'è un po' di dibattito, lo cerco e ve lo leggo poi dopo. Non viene assolutamente perso. Che stava proprio sul discorso che gli eventi del passato si possono dimenticare, si possono mettere nel cassetto, possiamo anche tenerli segreti e poi vedremo dove vanno a finire se sono segreti, ma si ripresentano attraverso forme completamente diverse. Ma hanno in comune quella spina dorsale lì, cioè quella dimensione lì. Ok? E questo è molto importante perché ci porta veramente a dire quanto è necessario affrontarli, quanto è necessario nel momento in cui se ne ha coscienza e si sente addosso qualcosa di pesante, di dovuto, quanto sia importante non pensarsi a chissà che cosa mi sta succedendo, sono stressata, sono eccetera eccetera, quanto piuttosto provare anche a vedere dal proprio punto di vista personale, familiare, quanto invece ci sia un tranche razionale che sta agendo. E questo è importante dal punto di vista individuale ma anche importante per gli operatori. Ripeto, molte volte si dimentica, soprattutto con l'adolescenza, l'importanza di questo aspetto. e perché di fatti poi ci si ritrova quando avvengono cose particolari, cioè i temi grossi sono quelli della morte, del suicidio, dell'abbandono, cioè sono temi difficoltà di separazione, eccetera eccetera eccetera, violenza, i temi grossi, allora quando ci capitano questi temi così grossi, così importanti, allora ci si chiede ma perché è avvenuto tutto questo? Perché avviene questo? Perché reagisce così? Perché? E la mettiamo molto sull'individuale, cioè la mettiamo molto solo sull'aspetto della dimensione individuale, andando a invocare tutti i fattori inerenti, ad esempio, l'organizzazione affettiva della famiglia, la costituzione individuale, fatto così, ha queste potenzialità, eccetera eccetera, e ci dimentichiamo che c'è fondamentalmente un'incapacità da parte del soggetto, del gruppo che lo circonda, di elaborare quell'angoscia che deriva da quella situazione, da quell'evento, da quel sentire il vissuto, eccetera, no? Cioè questa è una parte che noi ci dimentichiamo. Andiamo a vedere quello che è, no? E commettiamo in questo senso un errore, nel senso che ci perdiamo una possibilità, ecco, non è un discorso di un errore, ci perdiamo una possibilità. Perché dall'angoscia nell'elaborare un aspetto, per esempio, traumatico della transgerazionale, questa angoscia che si genera dall'elaborazione dell'evento, fondamentalmente abbiamo due strade. O andiamo verso una compulsione ripetitiva, quello che ho detto prima, lo reiteriamo, lo riproponiamo, anche se ha una musica diversa, anche se ha un suono diverso, un evento completamente diverso, ma la modalità è quella, oppure possiamo andare verso una soluzione attraverso riparazioni creative, ma una riparazione creativa, voi me lo insegnate, soprattutto chi di mestiere sta nelle comunità, è una soluzione che si trova insieme ed è una soluzione che si ritrova là dove c'è una disponibilità a farla vivere, no? Quindi c'è un contesto, c'è un prendersi carico, c'è un lavorare, c'è un allargare, eccetera. adesso si do la parola a lei e io cerco quell'esempio di giro allora quando come c'è scritto lì quando parliamo di famiglia quello che entra a pieno titolo nel transgenerazionale è il mito e il mito vediamo se riesco in poche parole insomma a capire perché è un elemento rilevante che contribuisce proprio ai processi di identificazione di ciascuno puoi mica girare abbiamo cercato di sintetizzare un po' i miti sono l'insieme delle fantasie gruppali transgenerazionali della storia familiare aggiungerei sono queste fantasie gruppali prima di parlare dei ruoli che si rimodellano nel corso del tempo però lasciando un nucleo intatto all'origine che a volte resta segreto nel corso delle generazioni alla sua costituzione direi al suo permanere contribuiscono tutti i membri della famiglia di generazione in generazione organizzando così diciamo la continuità del gruppo familiare i miti descrivono i ruoli e le attribuzioni tra i membri della famiglia nelle loro interazioni reciproche a volte richiedono distorsioni anche della realtà ma non sono mai negati da nessuna delle persone che vi sono implicate e si differiscono perciò dall'immagine che come gruppo le famiglie offrono all'esterno perché c'è una parte interna a cui tutti contribuiscono a che venga conservata è tenuta nascosta il mito diciamo non racconta solo qualcosa parla attraverso ciò che racconta crea una sorta di intercodice etico il mito cioè collega diversi livelli della realtà e la sua grande importanza nasce proprio dalla capacità di essere un autentico intercodice proprio per i rapporti che il mito costituisce tra i differenti livelli della realtà mentre il mito sembra descrivere la realtà insegna e prescrive piuttosto come la realtà deve essere letta nelle dimensioni non patologiche certamente diciamo che questa dimensione prescrittiva può essere in qualche modo modificata nel senso che può essere messa in discussione dalla storia personale di ognuno quindi questo non è che sia impossibile è un lavoro molto complesso quello che io e lei volevamo sottolineare tanto che questo è un aspetto che dobbiamo tanto prendere in considerazione come un elemento terzo nel rapporto che abbiamo con le persone di cui ci occupiamo e che riguardano anche la vita di ognuno di noi rispetto il segreto il segreto parlando di famiglie diciamo che non possiamo non sottolineare l'importanza patologica e patogena direi dei segreti familiari ogni famiglia ogni individuo ha psicologicamente organizzato una parte di sé attraverso il segreto ci sono persone tra l'altro che si fabbricano falsi segreti proprio per compensare la mancanza di uno spazio personale interno sono persone che hanno degli aspetti problematici o delle carenze quando si parla di segreti si fa riferimento proprio ad un aspetto io direi sovvertito del funzionamento familiare c'è qualcosa che irrompe o che interrompe o perverte in qualche maniera nel loro orientamento diciamo quelle le catene associative familiari come una sorta un po' di oggetto feticcio della vita familiare che malgrado tutto viene trasmesso da una generazione all'altra e il cui effetto patogeno è soprattutto il fatto di rinnovare un funzionamento segreto ciò che è patologico e patogeno di fatti è comunque il funzionamento del sequestrare non tanto l'oggetto del segreto il fatto che continua a persistere questa dimensione insomma la Feinberg descrive no andiamo pure avanti ah no aspetta non ho letto quello forse nel funzionamento familiare crea un'ascissione questo è molto importante dal punto di vista della costituzione dell'identità un doppio registro rappresentativo in convivenza nel senso che convivono l'atto stesso del creare o perpetuare un segreto può tradursi in un sequestro attivo di aspetti o parti della vita emotiva individuale o familiare che si tramanda transgenerazionalmente è proprio importante pensate quanto è patogeno no è patologico come dire il mantenimento di un segreto perché può portare proprio a questo sequestro attivo di aspetti o parti della vita emotiva individuale familiare e che poi viene tramandato da una generazione all'altra il tema del transgenerazionale infatti è strettamente legato al costituirsi dei processi di identificazione è un processo identificatorio che condensa una storia di più generazione almeno tre la Feinberg definisce a me piace molto questo termine questo come telescopage generazionale perché è un termine suggestivo proprio che descrive l'esperienza del vedere vicino come attraverso un telescopio quello che invece è molto lontano che è avvenuto nelle generazioni passate mi piace molto questo per dire che esiste qualcosa di organizzato nella nostra mente che non appartiene solo al corso della nostra vita e questa è un po' la consapevolezza importante che ci viene proprio dalla conoscenza del transgenerazionale a volte questo elemento è possibile integrarlo questo che viene da tanto indietro a volte può essere vissuto come un'ontrusione spesso quello che si determina è il crearsi proprio e su questo che si crea non mi ricordo se la frase dopo va da un po' oppure se l'ho scritto io no no metto una più indietro e il crearsi questo è molto importante io trovo di un doppio registro interno capace di generare una scissione molto molto precoce tra aspetti accettati e accettabili che vivono allo scoperto nella vita familiare aspetti nascosti che invece sono scissi molto negati che invece corrispondono al segreto il problema si fa rilevante però quando la necessità di acquisire proprio uno stato di autonomia e di separatezza come nel periodo dell'adolescenza comporta un processo di disidentificazione o di trasformazione creativa delle precedenti identificazioni cioè l'adolescenza è una fase in cui questo deve assolutamente venire e questo processo comporta una selezione una trasformazione forse talvolta anche un abbandono delle precedenti eredità fantasmatiche che abbiamo ricevuto dagli altri specialmente dei nostri genitori il lavoro però su questi aspetti è molto complesso molto complesso e difficile sia per l'adolescente che per la sua famiglia perché se da una parte come dire questi aspetti parassitano il soggetto e la vita di relazione dall'altro però sono anche costitutivi della sua identità e di quella famiglia il rischio quindi è che una loro elaborazione potrebbe anche equivalere ad una rinuncia ad aspetti vitali anche alla perdita di identità e imporrebbe un doppio lutto da una parte quello di parti di sé e quello di parti del genitore o dell'antenato della famiglia con cui la persistenza di queste problematiche funziona come un legame potente quindi come dire questi aspetti in adolescenza veramente creano un problema ulteriore non so mi viene a mente io ho appena salutato adesso una famiglia che sto vedendo da un po' con una figlia che ha fatto un tentativo anticonservativo ci sono due genitori molto come dire sono partecipativi partecipano però c'è un papà e una mamma che sono consapevoli dei loro limiti ma impossibilitati a farci qualcosa no? a cambiare a cambiare soprattutto il papà in questa coppia in qualche maniera è molto bloccato da qualcosa che appartiene come dire al suo passato non solo al rapporto con la sua famiglia ma è una storia come dire che si perpetua no? perlomeno come dicevamo prima stiamo indietro di tre generazioni rispetto alla quale deve farci un lavoro non è possibile cioè non è che ci si arriva razionalmente perché questa parte che è così segreta questo transgenerazionale è qualcosa di cui non si ha consapevolezza no? è qualcosa che può essere recuperata attraverso un lavoro come dire faticoso anche che non sempre può essere fatto da soli ed è un qualcosa che ce l'abbiamo tutti dentro non è che tutti però abbiamo la necessità come dire di andarlo magari potremmo avere la curiosità ecco di andare a vedere no? che cosa ci è stato tramandato insomma da generazione in generazione e che cosa io ho utilizzato ma come dire nelle situazioni dove c'è un problema consistente è assolutamente indispensabile e se questo non viene fatto può creare un blocco grande perché oggi dicevo questo papà il problema di farsi aiutare non è legato di nuovo non è che c'hai dei problemi sei tu il negativo ma ci sono aspetti della tua vita di cui non è possibile entrare in contatto da soli e che necessitano in qualche modo di essere di essere come dire conosciuti eccetera poi mi viene in mente non so una situazione cioè non è che siamo obbligati non è che è un binario come dire ci sono degli aspetti di scelta perché se mi viene in mente quell'esempio che abbiamo anche trovato di una nonna molto intraprendente molto libertaria un po' cocotte che ha ricevuto in eredità quindi ha fatto la fortuna della sua famiglia perché ha avuto un'eredità da un suo spasimante molto ricco allora nella generazione nella nipotina come dire che entra in adolescenza nel vissuto della famiglia ci può essere o il vedere questa nonna come una signora molto intraprendente e che in qualche modo come dire è riuscita con ma anche con affetto come dire ad entrare in relazione come dire con un signore così fortunato oppure a vederla come una signora molto negativa molto equivoca che e questo incide molto rispetto al rimando che i genitori inconsciamente possono vedere insomma nel rapporto con questa con questa figlia e anche poi il rapporto della nonna con questa nipotina proprio partendo da questo esempio che riporta Rita pensate in una dimensione adolescenziale in cui c'è anche la scoperta della sessualità per esempio fare riferimento a una nonna cocotte piuttosto che a una nonna non abile eccetera quanto restituisce e quanto rafforza e disegna in qualche modo il tuo vissuto sulla sessualità soprattutto per l'adolescenza quindi il discorso che ci sorprende e ci sostiene però a riconoscere l'importanza del valore del transgerazionale nelle dinamiche familiari è proprio per queste situazioni dove comunque c'è in qualche modo un impedimento che non è nominabile ma è visibile c'è comunque un blocco quante volte una parola che si usa c'è un blocco c'è un blocco emotivo il blocco emotivo che è proprio questa incapacità di raccordarsi di integrarsi di esprimere c'è il silenzio per esempio la non parola ecco situazioni che rappresentano il drammatico da questo punto di vista no? beh molte volte è una non parola che arriva da un trauma per esempio il trauma è una parola che non abbiamo nominato ma nel transgerazionale molto c'è di traumatico quando viene trasmesso no? perché come diceva Rita prima quando parlava della scissione no? nonna e beh se siamo in una famiglia elastica morbida che è capace di avere delle regole in discussione che è capace di dialogare eccetera 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 possono esserci tutti no? gli aspetti pesanti bloccanti che vogliamo ma c'è forse la capacità di prendere dei pezzi di modificare di lasciarne altri di cambiarli di viverli no? no? mentre invece là dove c'è una rigidità dove c'è davvero un peso un blocco non c'è possibilità di cambiamento noi assistiamo a una reiterazione anche se non ne siamo a conoscenza io ho trovato quell'esempio che era un po' al di fuori delle nostre portate perché di un vecchio signore un passatempo che però dice quanto un aspetto può diventare patologico pur senza saperlo si tratta di un uomo che ignorava la storia di suo nonno materno era un geologo dilettante molto appassionato ogni domenica andava a raccogliere i sassi li spaccava e li catalogava nello stesso tempo cacciava farfalle le catturava e le uccideva col cianuro per una sua crisi esistenziale iniziò una psicoterapia e venne appunto fuori il segreto che lui non aveva mai conosciuto cominciarono le indagini e lo portarono a scoprire che il nonno aveva fatto cose assai malvagie per le quali era stato inviato in un battaglione di punizione a spaccare sassi in Africa ovviamente questo è proiettato precedentemente come tempo in seguito era stato condannato alla camera gas cosa che anche sua figlia la madre del nostro geologo dilettante ignorava quindi non era stato proprio detto dunque raccogliere sassi spaccarli uccidere farfalle con il cianuro avevano un forte senso simbolico completamente rimosso nella realtà familiare che tuttavia lo spingeva a proseguire proprio per una coazione a ripetere quei gesti e sempre per coazione a ripetere la fine tramite il sostituto delle farfalle in sua madre la mamma del geologo il trauma aveva cominciato a perdere le parole con le quali essere ricordato non ne sapeva nulla non era conoscenza per cui non aveva le parole ma aveva pur senza saperlo conservato la spinta disorganizzatrice trasferita in seguito al figlio al nostro geologo il quale è sospinto a proseguire a sua volta il compito di attenuare la portata energetico affettiva del trauma perché è quello che ti permette è come un mandato di continuare comunque a esistere questo è un discorso citato in una grande psicoterapia eccetera però questa cosa era completamente non saputa non vista e inspiegabile ma quello che ci colpiva il motivo per cui l'ho riportata è proprio questo senso che pur non essendone a conoscenza è stato tramandato e in qualche modo è stato agito qualcosa qualcosa che non era tanto adeguato io darei la parola però un po' a voi perché io e Rita ci siamo un po' perse in tutto questo grandissimo discorso paziente che aveva fatto le indagini per andare a il geologo che si era interessato e il nipote perfetto il nipote aveva anche sua mamma sarà rimasto traumatizzato ok quindi la potenza no della vi prego di approfittare di questo spazio con libertà domande pensieri riflessioni preoccupazioni non abbiamo capito niente mi ha suscitato invece un interesse particolare quello che ho sentito e quindi con molta domanda per appunto lavorare con il transgenerazionale voi utilizzate il sociogenogramma e fate ricostruire alle persone fate fare domande ai parenti a chi è rimasto possiamo dire due cose diverse perché abbiamo un'impostazione teorica diversa grazie vuol dire che ci sono almeno altre impostazioni sì io ho una formazione psicodinamica però come dicevo prima c'è anche nel mio ambito come dire quella frase della Niccolò la Niccolò è la presidente della società della SPI la SPI è la società degli psicoanalisti italiani quindi come dire che anche nel nostro ambito cioè come dire questa dimensione del transgenerazionale è molto presa in considerazione il modo con cui la trattiamo sicuramente è diverso da a seconda nel senso che come dire noi non utilizziamo queste tecniche del sociogramma ma è più attraverso il lavoro delle associazioni o dei pensieri che mettiamo in connessione allora quello che è avvenuto come dire quello che facciamo sempre nel nostro lavoro è quello di interconnetti intercettare quello che del passato in qualche modo sta bloccando o sta facendomi vedere in maniera alterata il presente questo è il lavoro che facciamo insomma nel lavoro clinico allora questo il transgenerazionale è un ampliamento per quanto riguarda chi lavora con la mia formazione nel intercettare come dire questi aspetti che sono ancora più lontani non solo dal nostro paziente ma dalla famiglia e ancora indietro Milena la dimensione del sociogramma del genogramma la dimensione di tutti questi aspetti se volete anche da un certo punto di vista di psicodramma in qualche modo hanno una facilitazione forse rispetto a quello che è il contesto che è quello di immediatamente provare agire vedere e sentire la dimensione dell'altro e quindi ci si sposta completamente anche su un piano simbolico quindi ci sono degli strumenti diversi ma quello che è importante soprattutto per gli operatori è la capacità di leggere e di integrare gli strumenti e le cose che gli strumenti portano perché uno è assolutamente indispensabile all'altro cioè anche in questo caso il lavorare insieme permette veramente di avere poi una visuale molto molto più ampia oggi come oggi siamo in una situazione in cui la modernità le nuove scienze le neuroscienze ecco c'è tutto l'aspetto delle neuroscienze che noi abbiamo completamente abbandonato ma questo del transgenazionale è un campo molto anche in cui c'è l'espressione delle neuroscienze dove ci sono una catalogazione ad esempio anche di patologie psichiatriche figuriamoci a non finire come letteratura rispetto a questa situazione qua beh oggi come oggi la 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 carta vincente è quella capacità di integrare e di non dire ah se fai così hai risolto perché io posso fare uno splendido genogramma posso fare un meraviglioso no 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 sì esatto esatto ma poi non hai la possibilità di mettersi in ascolto di questa parte profonda che fa emergere ma tu non hai fatto nulla cioè hai fatto un pezzetto che però diventa solo strumento tecnica e non è lavoro terapeutico no non ok ecco quindi c'è fondamentalmente ci sono delle altre esperienze mi permetto anche di dire questo che hanno una grande visibilità sul territorio e raccolgono tanti consensi per esempio che sono le costellazioni familiari no dove proprio sulla dimensione della della dell'irretimento no come dice Ellinger che è quello che ha in qualche modo creato le costellazioni familiari e questo irritimento ecco nelle costellazioni familiari tu lo percepisci lo senti e si crea effettivamente questa possibilità di ascolto no ma io però andrei su un altro piano nel senso che anche quando io ho capito ho ascoltato eccetera eccetera no cosa posso adesso io nella mia realtà nella mia situazione nella mia cos'è che posso modificare cos'è che come posso cambiare chi cosa eccetera allora credo che questo sia no non il grande il grande lavoro e la grande scommessa è proprio per dire come dire non basta arrivarci razionalmente il passaggio dalla consapevolezza razionale no di questi aspetti magari ce l'hai anche con le costellazioni vedi vai indietro eccetera non è che di per sé ti porta dei cambiamenti come dire il cambiamento richiede veramente è un processo complesso è delicato perché passare dall'aspetto razionale all'aspetto emotivo presuppone un lavoro che non è che possiamo fare con scioltezza e quindi da soli soprattutto siamo stimolati quando ci sono dei problemi insomma no normalmente chi va dallo psicologo dallo psicoterapeuta o dallo psicanalista o perché ho dei problemi o perché in qualche maniera voglio farmi un regalo a me viene da dire perché è farsi un regalo cioè andare a vedere no le cose che ci riguardano andare a sciogliere un po' è come fare non so fare ginnastica no e in qualche maniera ti sciogli un attimino allora sto meglio se fado a fare ginnastica poi se non la faccio e sono giovane posso farlo lo stesso cioè sto bene lo stesso ecco diverso se ho un problema di una certa consistenza un'altra cosa che io trovo interessantissima ma noi non l'abbiamo neanche toccata non so posso solo raccontarla ecco mi affascina molto e mi ha colpito molto e credo che devano conoscerla anche i politici insomma che fanno le politiche e che investono poi sui servizi piuttosto su diverse aree è che il trauma oppure come dire le caratteristiche patologiche una cattiva un cattivo accudimento insomma del bambino ha delle ricadute a livello organico cioè è stato dimostrato che proprio porta dei danni a livello cerebrale che questo si porta per tutta la vita e lo riporterà poi alle generazioni successive e quindi come dire se non facciamo un bel lavoro come dire durante la gravidanza nei primi anni di vita ci ritroviamo con delle situazioni che con tutta la buona volontà potremmo in alcuni casi parliamo di casi consistenti possiamo al massimo fare un lavoro di adattamento come dire ma già quello è proprio complesso e difficile di adattamento alla vita quotidiana questo è molto molto importante e lo stesso appunto abbiamo visto con lei è stata anche un'opportunità anche per rivedere delle cose di leggere del materiale eccetera è molto interessante cioè e sono stati sono descritti proprio che cose i cambiamenti che avvengono a livello cerebrale a livello delle strutture nervose a livello delle strutture limbiche eccetera molto interessante questo dovremmo dirlo i politici fare un po' un corsa è solo una cosa una battuta un conoscente disse alla sua figlia che si voleva fidanzare e ci ha fidanzati pure ma prima cerca di sapere la storia della sua famiglia se ci sono stati dei pazzerelli questo per dire come questa trasmissione avviene questo scherzando però non è poi così difficile sposarsi o fidanzarsi con uno che poi magari tre generazioni prima ha avuto una serie di disturbi anche mentali seri chiediamo un pedigree pedigree non ce la chiediamo però non sempre definiti dentro di segreti segreti a volte non sono decidi di segreti non ce la non ce la si dimentica del segreto ma c'è tutto questo movimento di non dire di nascondere ed è quello che viene io credo che comunque la sistemica abbia effettivamente lavorato tantissimo su questi aspetti e sicuramente dobbiamo comunque a tutti questi grandi lavori la consapevolezza di questo passato di questi eventi che non sono solo dal momento del concepimento anche se già Freud comunque aveva comunque lanciato il discorso dell'ereditato prego anche Jung che parla tutto della dimensione del simbolico che comunque ci portiamo dentro ci portiamo dietro quindi vedete che rispondere un po' alla tua domanda che ho trovato molto particolare perché se penso che tu sei un assistente sociale mi viene da chiederti per esempio io adesso non ti conosco non so dove tu lavori però proprio l'assistente sociale quanto è importante disegnare per esempio il contesto e quanto nel disegnare questo contesto si scoprono e si sentono e si prende visione di non saputi di non detti di non anche senza non fare quali le connessioni rispetto ai blocchi che si osservano specie negli adolescenti il problema è sempre il tempo nel senso che come dire appunto io prima faccio un esempio di uno strumento che è un semplice strumento lavorare in questo modo richiede tanto tempo che ormai nessun operatore più ha ma quanto ti dà però in questo modo nel senso che gli stanni poi dopo ecco lo che abbiamo detto di qui perché se io tratto individualmente in una situazione di questo tipo non so quanto tempo ci metto per arrivare a comprendere se invece ho un contesto certo quindi è un risparmio che dopo oltre il risparmio delle ripercussioni di cui si parlava prima della disorganizzazione del fatto mentale per cui anche i grossi problemi in adolescenza se nasci in un certo modo se c'è un recorrendo di un'indale no volevo dire quello che a me è servito stasera ad esempio io faccio un lavoro semplice di educatrice comunque la storia familiare conoscere la storia ti porta poi ad accogliere a capire perché magari certi ragazzini a me è capitato di prenderli a tre anni e portarli a sedici anni poi a sedici anni scoppia tutto tutto il dramma la conoscenza della famiglia della famiglia della famiglia prima cioè com'è importante questa cosa qua no di tener conto non è tempo per è questo sì io volevo solamente provare a portare l'ottica invece su quella che è la mia professione che non faccio lo psicologo quindi e quindi abbiamo un'operatività proprio differente cioè noi siamo agenti di cambiamento quello dovrebbe essere il nostro lavoro questa parte diciamo così più di disamina introspettiva non la sappiamo applicare sappiamo fare altre cose ma non quella la domanda quindi è questa noi nel momento in cui entriamo in relazione di fatto già solo perché c'è la relazione portiamo un cambiamento proponiamo un modello cerchiamo di costruire un sistema di attaccamento differente ad esempio da quello che si viene a creare all'interno del proprio nucleo perché in questa dimensione va detto anche come il sistema di attaccamento a volte è patologico di per sé e quindi era anche capire quanto l'intervento che è molto diverso da quello dello psicologo perché è costruito nella quotidianità sul campo alimentato da una continua relazione dove si costruiscono un sistema di fiducia dove viene riproposta in realtà un nuovo modello quanto questo nuovo modello può aiutare la persona ad uscire da questa coazione a ripetere nel suo futuro ecco questa era un po' la domanda che ponevo ricercavo di consenso in realtà allora scusa e te lo piglio subito perché io ho lavorato tantissimo e lavoriamo tantissimo operativamente sull'integrazione tra la funzione terapeutica e la funzione educativa allora nessuna dei due ruoli di per sé può raggiungere un cambiamento in autonomia nelle situazioni vi pregherei di leggere c'è una rivista gratuita se andate sul sito di Agipsa Agipsa c'è una rivista gratuita e il primo numero è appena uscito e c'è un articolo tra i tanti articoli uno che ho scritto io con altri colleghi e poi altri di Roma proprio sull'integrazione tra la funzione educativa e la funzione terapeutica ora l'educatore è vero che ha quel ruolo per cui noi ci crediamo fortemente insomma alla necessità di un lavoro sul campo ma se l'educatore non lavora integrato con quello che è l'altro pezzo di lettura delle difese della lettura del contesto che viene condivisa ma soprattutto a livello poi anche non solo intrafamiliare ma anche intrapsichico su quali sono i blocchi no e le resistenze che possono essere messe in atto dalle situazioni è anche difficile perché è vero che tu ti poni quell'obiettivo che ce lo poniamo tutti che è l'obiettivo del cambiamento ma è come quali sono le condizioni che possono renderlo possibile tenuto conto della resistenza al cambiamento che abbiamo tutti che in alcuni contesti soprattutto quelli più patologici che sono proprio come abbiamo detto tutto quel discorso del segreto per cui ritengo veramente c'è vero che parliamo di due con un linguaggio diverso ma condividiamo un obiettivo comune che deve essere io su questo guarda proprio se non si lavora insieme non è che noi possiamo avere l'illusione di cambiare con una psicoterapia la situazione di un ragazzino cioè siamo fuori di testo se pensiamo questi ecco per cui deve esserci un lavoro con la famiglia un lavoro educativo insomma Carlotta che rappresenta loro due noi lavoriamo in situazioni difficili insieme ragazzini che hanno tentato il suicidio che non mangiano che non escono di casa eccetera riusciamo a raggiungere dei risultati ma con un investimento collettivo e un lavoro che facciamo insieme del recupero dell'informazione della famiglia solo per dire le differenze un conto se questo recupero lo fa un assistente sociale un conto se lo fa un educatore un conto se lo fa uno psicologo è difficile che ad esempio l'educatore riesca a cogliere tutti quegli aspetti della storia familiare che in qualche maniera riesce a carpire lo psicologo quindi se non c'è appunto questo lavoro complementare il rischio è solamente di avere una narrazione ma senza rilevarne i contenuti non so se poi mi sono spiegato infatti 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 adesso come dire in questo io sono molto orgogliosa di dire che noi per quanto riguarda almeno il territorio piemontese siamo un'eccellenza non noi io ma siamo un'eccellenza nel senso che per quanto riguarda i ragazzini i casi gravi effettivamente c'è questa condivisione per cui c'è un raccogliere le informazioni quindi magari la ragazzina alcune cose le racconta a me e non riesce a raccontare alla psicologa o non le racconta l'assistente sociale le racconta magari in una situazione più informale ma io raccolgo tutto e poi riporto all'interno di un'equipe che in qualche modo pensa insieme e questo secondo me è fondamentale la condivisione e anche la fiducia reciproca di diverse professionalità io lavoro sul territorio di Torino dal 2002 io sento crescere questa coesione non c'era o forse io non la avvertivo così tanto in questo momento secondo me c'è una buona rete reale nel senso che fra la neuropsichiatria la parte di psicologia del territorio dei servizi sociali c'è una buona collaborazione che sui casi difficili secondo me è l'unico modo per riuscire a ottenere un vero cambiamento poi io personalmente anche per la mia esperienza personale credo molto al fatto che come educatrice l'avere una visione generale mi aiuta a essere un po' più lucida sul pensare al ruolo e alla mia collocazione quindi io non so banalmente quando ho tempo il genogramma lo faccio da educatrice però per avere l'idea anche soltanto visivamente non so dei vuoti perché i miei ragazzini hanno tantissimi vuoti tanti punti interrogativi per cui non c'è nessuno che sappia che fine avesse fatto il nonno quello mi aiuta moltissimo così come anche delle domande che a volte in quello qualche supervisore nel tempo mi ha aiutato a darmi delle domande che io ho in testa quando conosco una ragazzina nuova a un certo punto o a lei o a mamma o a papà io chiedo ma ti chiami così ma come mai ti hanno dato questo nome da dove arriva e quello normalmente è una adesso ho fatto un esempio però è una domanda che fa nascere sempre il pensiero quindi spessissimo non sanno da dove arriva il nome oppure si rendono conto che arriva non so da una zia da una nonna a cui la mamma era molto legata e poi mi parla allora la mamma mi parla di quando la bambina è nata di quando pensavano alla nascita questo è soltanto una generazione non è che andiamo troppo in là però sì e secondo me queste cose sono molto molto utili hai dovuto riattivare il dialogo tra gli indigeni certo poi dopo loro magari chiedono spesso noi incontriamo famiglie piene di buchi che non si piene di buchi ah sì scusa piene di buchi piene di segreti tutte le famiglie hanno un mito familiare ma i miti nelle famiglie è ben che ci siano mio nonno è sempre stato descritto come un eroe io non credo lo fosse però questo è quello che è passato quindi ci sono anche come dire dei miti che rinforzano l'identità e invece ci troviamo con dei ragazzi che non sanno nulla nulla di nulla di cosa ha fatto suo nonno pensiamo ai ragazzi stranieri che arrivano qui non sanno più niente pensiamo ai ragazzi adottati con tutti tutte le adozioni che falliscono quando i ragazzi arrivano in adolescenza cioè è veramente questo è un tema per me affascinante da matti a me piacerebbe lavorare su queste cose però è veramente un apre un mondo io in questo momento ho 25 e 26 casi che sono su 25 e 26 casi ne ho almeno più della metà che sono adottivi non credo che sia un caso e quando avevo fatto lo studio il primo anno e mezzo di apertura per cui avevo proprio numeri avevo fatto la statistica praticamente l'80% arrivava con o da un adotto comunque da un lutto per cui o era morto un genitore uno dei due genitori o era un nucleo monoparentale per cui un'adozione insomma una mamma che era rimasta comunque da sola quindi il papà era scomparso se non era morto comunque non c'era più notizia oppure si erano adottivi non credo che sia un caso ecco io sottolineerei l'importanza e la la bellezza la forza del nostro lavoro no? perché prima ci parlava di pensiero si aziona un pensiero ma voi pensate che queste situazioni questo ragazzino questa ragazzina se l'educatore l'assistente sociale lo psicologo lavorano insieme lui non si senta pensato è tutta un'altra cosa cioè quindi questo lavorare insieme no? vorrei aggiungere questo pezzo che va oltre la rete no? che è già così difficile però è quella che ci permette di integrarci di fare eccetera ma noi diamo qualcosa ancora in più cioè noi gli riconosciamo il diritto di essere pensato no? c'è qualcosa sì? grazie no volevo solo sottolineare un aspetto perché per evitare un rischio secondo me è anche importantissimo no? in qualche modo andare a conoscere quella che è la storia quella che è la storia conosciuta dalla persona quindi è vero raccogliere prima parlavate di raccogliere informazioni però secondo me bisogna fare attenzione poi a non leggere quelle informazioni che si hanno in maniera deterministica per cui se è successo quello ah è proprio per questo che la persona sa così perché questo è molto rischioso ed è un rischio in cui possiamo incappare tutti quanti costantemente quindi è importante conoscere è importante narrare rinarrare insieme ma per sentirsi pensati per ricostruire nuovi scenari e nuove possibilità quindi solamente attenzione a non leggere le cose in maniera deterministica dobbiamo aprire finestre non chiudere delle porte no? no però l'altra cosa che mi veniva da pensare perché pensavo noi qui siamo Aria e quindi Aria lavora con dire normalità no? una normale adolescenza in crisi dando alla parola crisi un significato non negativo voglio dire no? è una fase di passaggio dove appunto tutto quello che abbiamo detto rende ancora più difficile no pensavo a quello che tu dicevi prima alle nuove famiglie no? c'è quasi una carenza come dire di miti familiari perché c'è un cambiamento perché il mito aiuta al mito dà un senso di identità da no? mentre questa situazione attuale che è così di cambiamento rispetto alla quale ci troviamo anche noi che facciamo il nostro mestiere un po' a doverla rincorre a dover ragionare ripensare eccetera non è casuale come dire che non so ad esempio non so la nostra associazione facciamo parte di questa associazione a livello nazionale con psicoterapeuti e psicoanalisti che si interrogano costantemente perché stiamo un pochino indietro rispetto ai cambiamenti no? e noi cerchiamo in qualche maniera di capire un po' perché questi ragazzi che appunto il fatto di chiedere il nome no? sembra banale è importantissimo e spesso e volentieri scopri che sono dei nomi che non hanno nessuna radice no? mentre una volta si dava il nome del nonno della nonna della cugina ma al di là di quello ma anche il nome attuale non sempre viene dato con un significato non so come dire no? ti chiami così ti ho chiamato perché come dire è di moda oppure ricorda degli aspetti eccetera è stata una scoperta inquietante nel senso che mi è capitato proprio quello che racconti tu nell'ultimo anno e mezzo c'era sempre stato un motivo per cui magari la ragazzina non la sapeva per cui aveva dovuto chiederle alla mamma però a un certo punto qualcuno mi aveva detto questo nome era perché non so uno zio un cugino oppure stavo guardando leggendo quel libro quando eri incinta invece mi è capitato di genitori e di figli che mi dicessero ma non so mi piaceva un'inquietudine proprio del non pensiero no? cioè tu hai dato un nome a caso senza un no? immaginartelo senza sognartelo l'ho trovato veramente inquietante che sì non mi era mai capitato però guarda il risultato anche io sono diventata femmina io penso che sia stato veramente importante e splendido questo momento di incontro e credo che il bello dell'incontro per me è arrivato dopo che noi abbiamo parlato nel senso che sentire voi le vostre esperienze i vostri riferimenti ecco forse dov'è? forse avremmo dovuto iniziare da così cioè avremmo dovuto cominciare da così allora questo nastro può ritornare indietro no? e riniziare dagli interventi delle persone che lavorano abbiamo perso un genitore comunque era l'unico genitore ma lei non vedeva allora che noi parlassimo per potersene andare e no era solo così una appunto ecco nel senso che no non non esatto esatto però era una restituzione così grazie a tutti Paola grazie a voi e davvero pensiamoci rispetto alla possibilità di continuare a approfondire anche questo tema aspettate però comunicazione pubblicitaria vi aspettiamo per il prossimo seminario 23 ottobre parleremo di nutrirsi bene è un dovere mangiare bene è un piacere grazie mille davvero grazie a tutti